La cosa scioccante è che non solo sono riusciti a farmi una sorpresa, ma sono riusciti a portare Giulione Nazionale, sempre un bell'uomo, a Milano. E' importante. E non solo, ci sono proprio tutti. Io sto scioccata, ma tutti, proprio tutti, eh? Cioè tutti. Eh, ma Giulione... So, ragazzi, sono sconvolta. Cioè, poi ci sono tutti, tutta la mia famiglia. Sconvolta. Oh, grazie. Ma tutti, tutti. Oh, grazie. Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday, Giulia Happy Birthday to you Happy Birthday, Happy Birthday Happy Birthday to you Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Amore. Chichà Chichà